C'è una questione di trasparenza. Perché è giusto che vengano fuori determinate situazioni. La scuola c'è un cittadino. Non c'è bene, non c'è nessuno. Penso che siamo persone che abbiano in qualche maniera coraggio e che se scoprono cose compromettenti in qualche maniera mettono anche a rischio la loro vita. Quindi sono persone importanti che vanno anche tutta l'attenzione. Per difendere l'intere generale, e per difendere l'intere generale, e per difendere il bene di tutti. Non c'è nessuno che non sono molto semplici. Perché non c'è nessuno che mi ringrazia, ma non solo nella vita di lavorare, ma anche nella vita di lavorare. Penso che tutto il controverso è essenziale in una democrazione. Quindi i lanciati all'alerti con parte del dispositivo. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!